Salve a tutti abitanti del mio mondo e benvenuti finalmente in un nuovo video sul canale. E sì, finalmente ho ideato un intro per questo canale decente e come voglio io e non il classico e generico. Salve a tutti ragazzi, qui a World of Music e benvenuti in questo nuovissimo video. Per dirvi. Benvenuti su un nuovo video in una categoria che sì, si tratta pur sempre di rap, però fatto in un modo che io non ho mai trattato all'interno di questo canale, ovvero le tier list. Già in passato feci delle tier list, però ai tempi quando World of Music non era neanche World of Music, ma era un insieme di così tanti contenuti e trattato neanche in maniera doverosa per quei contenuti che erano. Prima di iniziare ragazzi faccio due doverose premesse, la prima che è sicuramente quella più importante. I rapper verranno giudicati a seconda dei miei gusti personali, non dico oggettivamente chi è meglio dell'altro, oggettivamente chi è peggio dell'altro, io valuterò in base ai miei gusti personali, dato che il rap è pur sempre musica, la musica è bella perché è pur sempre una cosa soggettiva. Tu puoi medesimarti in tanti altri artisti, per esempio ci sono artisti che sono stati messi in questa tier list che non so neanche da chi è stata fatta, che sinceramente non ho prestato nel corso degli anni, potrei apprezzare nel corso degli anni a venire, però vi ripeto che sono pur sempre i miei gusti personali. Infatti appunto io vi invito, andando a guardare ovviamente tutta quanta la tier list, di scrivermi sotto nei commenti qual è stato il vostro preferito e quello che vi è piaciuto di meno di questa tier list. Seconda premessa, questo video è stato diviso in due parti, ho deciso di farlo perché avevo paura che questo video non sarebbe uscito nel minor tempo possibile, quindi godetevi il video e buona visione! Iniziamo col primo, ovvero Achille Lauro. Achille Lauro ai tempi devo dire che era uno tra quelli che sapeva portare la trappa a livelli altissimi, soprattutto anche per il personaggio che lui si era creato. Il sogno americano, l'American Dreams, visto dal punto di vista di un italiano. Negli ultimi due o tre anni possiamo dire che ha preso delle scelte artistiche che possiamo definirlo discutibili soprattutto dal punto di vista di persone, che nel passare degli anni, soprattutto nel periodo di Roccia Music, hanno saputo apprezzare la sua personalità e il suo modo di raccontare certe storie. Alcune potevano anche essere false, alcune potevano essere vere, ma aveva pur sempre quello stile unico che sapeva ipnotizzare l'ascoltatore, che non aveva benché minimo sentito parlare di lui. Secondo me è più sul ci sta che sullo spacca, quindi Achille Lauro si merita un bel ci sta. Allora io ve lo ripeto, non so di preciso chi ha fatto questa tier list, però già al secondo rapper, se possiamo chiamare, abbiamo Anna Pepe. Quando io avevo visto questa tier list la prima volta, appunto mi sono chiesto tra me e me, come faccio a criticarla? Nel senso, avrà fatto soltanto, ve lo dico, 5 canzoni in croce, avrà sicuramente tanto da cui migliorare, però io gli voglio anche dare fiducia, anche se comunque vi dico, dalle 4-5 canzoni che ha fatto uscire, non c'è stato, diciamo, quel distacco tra una canzone e l'altra, anzi. C'erano dei momenti dove magari io passavo da Bendo a Blabla con Due Pechegno, o a Fest, fino all'ultima che aveva fatto uscire, non mi ricordo neanche come si chiamava, e non vedevo, diciamo, tutta questa particolarità, soprattutto nello scrivere e nel repare soprattutto, con un timbro vocale che a volte posso apprezzare, a volte non posso apprezzare, e io la metto in più o meno. Potrei anche dargli fiducia e mettergli una via di mezzo tra ci sta e più o meno, però non si può fare in queste tier list, quindi va più sul più o meno. Adesso, ragazzi, arriviamo a Canesecco. Ragazzi, che sfortuna che lui, nel passare del tempo, non abbia sfruttato questa sua grandissima capacità nel rappare. Inizialmente era uno tra i pilastri, non soprattutto nella scena rap romana, ma anche nella scena rap italiana in generale, nell'Extreme Team a fine anni 90 con Jamie Tides. Vi ricordate che, ai tempi, era, secondo me, uno tra i gruppi slash duo migliori che si potevano trovare nella scena rap italiana, ma andando avanti si è andato un po' a travestire in una specie di Nokia 2.0, andando a dissare persone tipo gli Arcade Boys, vari personaggi del web, del rap italiano, come possono essere Jamie Tides e Mad Men, e penso che al giorno d'oggi nessuno si carerebbe più Canesecco, soprattutto perché lui è passato dalla musica a fare solamente video su YouTube e live su Twitch, quindi non lo conterei neanche, anzi, dovrei contarlo, sì, perché è un po' come dire, tu hai lasciato questo e dovresti lasciare un altro, quindi per rispetto dobbiamo ovviamente classificarlo. Io lo metterei in più o meno. Se questa tier list io l'avessi fatta tipo nel 2014-2015, l'avrei messo in cista. Capo Plaza, l'ho rivalutato tantissimo, soprattutto negli ultimi brani. Inizialmente non mi piaceva tanto questo suo stile rap trapperesco, happy trap, chiamiamolo così, ma con l'ultimo disco mi ha fatto cambiare idea, mi ha fatto vedere tutta quanta la sua versatilità, nello scrivere, nel rappare. L'ultimo disco è anche pieno, non dico proprio al 100%, però ci sono molte tracce che meriterebbero di stare nella top 10 delle migliori tracce del 2021. Poi, fai il suo, io lo metterei tranquillamente in, ci sta. Caparezza. Artista molto ironico, molto autoironico soprattutto. E essere autoironico credo che sia una tra le cose migliori nel fare l'artista o magari il rapper in generale. Puoi capire tanto dei tuoi errori, puoi capire dove stai sbagliando, e capire i tuoi sbagli ti fa andare molto molto più avanti, e di migliorarti album dopo album. Per esempio, il ritengo l'ultimo che ha fatto uscire, Exuvia, se non sbaglio, il suo miglior album. Uscendo da tutto quanto il mood triste e sconsolato che lui aveva preso nel penultimo disco, che se non sbaglio è Prisoner 709, uscito nel 2017. Non serviva neanche dirlo effettivamente, ma lo metto tra i got. È stato anche influente non soltanto del rap italiano, ma nella musica in generale. Molti si ricorderanno sicuramente nel passare del tempo di Caparezza. Dovrei passare direttamente a Fabri Fibra, ma abbiamo Shadia Rodriguez. Potrei dire semplicemente no, e passare direttamente a Fabri Fibra, che tanto si sa già qual è il mio pensiero di Fabri Fibra. Per ora ragazzi, voglio un attimo chiudere questa parentesi per quanto riguarda il ghostwriting, che molti dicono, ah vabbè, ci sono molte star, non soltanto nel rap in generale, che possa essere italiano, americano, francese, spagnolo, eccetera eccetera, ma proprio nella musica in generale, dove loro si basano soltanto sul cantare le canzoni, e dopo danno i credit direttamente a chi scrive veramente i testi. Nel caso di Shadia Rodriguez, i suoi testi sono stati scritti da Jake LaFuria, tutti quanti i testi. E penso che per fare il rapper, proprio l'artista in generale, per definirti artista, devi sapere comunicare qualcosa che, soprattutto, tu sai esprimere, secondo la tua voglia di saper rappare, saper scrivere, soprattutto saper raccontare. Se tu vai a rappare ciò che non stai interpretando tu, allora non sei un artista, sei semplicemente facendo un'interpretazione di quello che ha scritto un'altra persona. Perciò, mi dispiace ragazzi, per me c'è DeRodriguez va tra i no. Fabri Fibra ragazzi, non c'è neanche bisogno di dirlo, va in got. Artista che ha saputo influenzare tantissime persone. Ragazzi, un po' come caprezza, chiunque conosce Fabri Fibra, chiunque ha mai sentito parlare, anche i fan, anche gli pseudo fan, anche i non fan del rap italiano conoscono Fabri Fibra. Ovviamente, ci sono state tante altre persone che hanno saputo utilizzare questo stile di scrittura, ovvero uno stile malato. No, avendo neanche paura di quello che avrebbe potuto pensare il pubblico, faccio un esempio, Chaos One, eccetera, eccetera. Ma quello che ha reso mainstream questo stile di scrittura, che ai tempi era, sì, presente soltanto nell'underround italiano, ma allo stesso tempo presente nell'ambito mainstream del rap americano, faccio un esempio Eminem, molte persone che non conoscevano questa lingua, e allo stesso tempo che non conoscevano Chaos One, in Fabri Fibra si possono rispecchiare tantissimo. Per fare un esempio di dischi di Fabri Fibra che hanno influenzato così tante persone, Mister Simpatia o Turbe Giovanili. Emi Schilla, artista versatile, che nonostante ci siano dei momenti dove lui passi da dischi molto molto mainstream, si può magari pensare all'erba cattiva del mercurio, per poi passare da progetti tipo Keta Music Vol. 2 e terza stagione, per far vedere comunque ai vecchi fan che lo seguivano un tempo, che l'Emi Schilla che loro ascoltavano non è per niente morto, che può tranquillamente impegnarsi e far vedere che, nonostante passino gli anni, lui riesce ancora a fare quella determinata cosa. E questo come è successo quest'anno con Keta Music Vol. 3, che dovrei fare una recensione su Keta Music, che dovrei far uscire la prossima settimana, sono praticamente a metà video, mi mancano pochi minuti per finire, e quindi spero vi piacerà. Comunque per me ne Mi Schilla va tra quelli che spaccano. Adesso ragazzi passiamo ad Enigma, Enigma, incredibile, maestro in color fa, uomo pieno di cultura, e grazie al rap, riesce a potere cultura anche a persone che prima non sapevano assolutamente niente, di quello che magari si va a parlare nella canzone. E' un peccato che nel passare del tempo lui abbia perso popolarità, soprattutto per quanto riguarda alcune cose inerenti alla macete, che non voleva più farne parte, ed ha scelto una via molto molto più indipendente rispetto a quello che tutti si sarebbero aspettati. Però è inegabile il fatto che lui ha uno di quegli stili musicali, stili di scrittura, e timbri vocali molto molto riconoscibili e unici, quindi non posso fare almeno che metterlo tra i gotti. Adesso arriviamo a Fedez. Inizialmente dal mio punto di vista il JX 2.0, uno che sapeva andare controcorrente, che non aveva peli sulla lingua, ma ha avuto anche un periodo di calo di quello che è stato il periodo dove lui stava diventando 100% mainstream all'interno della scena, con pezzi con JX tipo vorrei ma non posto, senza pagare, eccetera eccetera, comunque sempre pezzi appartenenti all'album comunistico Rolex fatto con JX stesso. Però la cosa che noi possiamo apprezzare è che, nonostante dietro tutti questi periodi bui, lui sia ritornato più forte che mai soprattutto negli ultimi due anni, portandosi quello che gli è sempre piaciuto, per esempio in Paranoia Airlines, dove all'interno non sono presenti soltanto influenze trap, ma molte influenze per quanto riguarda il punk rock, per esempio molti campionamenti dei Blink, la sua band preferita, o nelle ultime canzoni dove sono presenti tantissime influenze per quanto riguarda la musica elettronica. E a proposito delle ultime canzoni di Fedez, trovate una video recensione slash video reaction al penultimo singolo di Fedez, uscito con Da Suprima, ovvero Non Gay in Freestyle, ve lo lascio qua sopra nelle schede. In conclusione per me è una via di mezzo tra Spacca e Ci Sta. Siccome per me è molto più Ci Sta piuttosto che Spacca, e siccome io non voglio PR e hating sotto nei commenti, io lo metto benissimo in un Ci Sta. Fare da De Palma. Un punto di riferimento soprattutto per molte persone che vogliono intraprendere questo percorso del Fast Rapping, essendo comunque uno tra i più veloci freestyler italiani, uno tra i più veloci in realtà rapper in generale, non soltanto nel freestyle, ma per via di molte scelte artistiche, tipo pop, reggaeton, eccetera, eccetera, ha abbandonato il rap e non si è più concentrato su questo. E a giorno d'oggi non penso che lui sia così tanto importante, un po' come cane secco all'interno della scena, e non penso sia neanche così tanto rispettato come lo era ai tempi. Perciò glielo metterei in più o meno, anzi, misto tra più o meno e Ci Sta, soprattutto se lui avesse continuato a intraprendere il percorso che lui faceva in passato, ma sfortunatamente è andato così, non ci possiamo fare niente. Perciò glielo mettere in passato,